dai no ho beccato l'angolino dai salve a tutti i ragazzi e bentornati eccoci alla quattro dicesima missione del gioco le due facce dell'ospitalità continuiamo scopriamo cosa ci aspetta grazie 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 eccoci ottobre e 1584 dopo un tè favoloso bellissimo casco che abbiamo in testa si va bene buonanotte dai ora che abbiamo anzo è tutto tutto è migliore andrà tutto bene wow cos'era quella un ninja? è questo cane qui che è antipatico beh non ho mai neanche toccato la mia strada è quella di anzo se separata capirai adesso si mi lancia i fiemiferi la mia strada è la mia strada la mia strada è la mia strada è la mia strada ...che non è proprio la nostra. ... ... ... ... ... ... ... ... C'è qualcosa di più difficile. Quindi è questo? Se volessi volessi volessi. Questo è un uomo. Eccoci qua dal nostro amichetto Ok Eh, quindi? Dai Eh perché sono lento Ma c'ho tanti di quei status che la metà basta Sì vabbè Sono ancora vivo Che schifo di partita Però vabbè Cioè era semplicissimo e è diventato tragico Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Che storia ragazzi Molto molto bella Abbiamo finito anche questo capitolo Spero che il video vi sia piaciuto Grazie per la visione E ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Dai che morte deludente Va vai E sono due Dai Noo ho beccato l'angolino Dai Wow Dai 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 Si va bene Morto Che pal Dai Vale 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 Che pal Lo so No lo so No Nero